gentili telespettatori buona giornata che cosa succede dal primo aprile cioè dopo il 31 di marzo obbligo vaccinale mascherine green pass vediamo che cosa sono che cosa ci aspetta dopo questa data dal primo misuro dal primo aprile le misure saranno più leggere ma non verranno cancellate del tutto l'obbligo vaccinale per gli over 50 resterà fino al 15 di giugno un po tutte le misure vengono allentate ma non cancellate per arrivare entro il 30 aprile a un liberi tutti o quasi viene il green pass eliminato per la maggior parte delle attività resterebbe l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e per gli over 50 fino al 15 di giugno e questo l'orientamento del governo per la messa appunto dell'agenda annunciata da mario draghi proprio ieri che sarebbe determinato a uscire il più velocemente possibile dalle emergenze causata appunto dal covid 19 e vuole farlo tenendo insieme gradualità e decisione da una parte abbiamo un centro destra che vuole la fine delle misure di restrizione subito dall'altra parte abbiamo un centro sinistra che le vorrebbe mantenere qui c'è uno un retroscena ovviamente elettorale che abbiamo spiegato in altri in altri video sono positivi dati che arrivano dai bollettini giornalieri e il provvedimento potrebbe entrare in vigore appunto dal primo di aprile la data simbolo che segnerebbe l'inizio del percorso verso la fine di tutte le restrizioni come sappiamo il 31 di marzo scade lo stato di emergenza non verrà rinnovato i contagi calano i reparti ospedalieri sia in terapia intensiva che in area medica calano fortemente l' rt scende che l'indice per capire se il contagio è in espansione o in retrocessione le regioni retrocedono coi colori anche se i colori ormai non servono assolutamente a nulla perché non cambia niente da un colore all'altro alcune misure verranno prorogate altre cadranno perché prorogate cadranno perché tutte le misure scadono il 31 di marzo pertanto non ci sarà qualche misura che resta bisognerà rifarle da capo magari mettendole uguale a quelle di prima l'intenzione del governo è avere un nuovo calendario che arrivi entro fine aprile a regolare il ritorno alla normalità e favorisca l'arrivo di turisti stranieri e la ripresa dell'economia già provata dall'aumento delle bollette soprattutto adesso con la crisi ucraina le bollette del gas potrebbero aumentare quindi maggiore libertà per ingresso nei negozi ristoranti bar alberghi piscine eccetera eccetera il tema più importante è quello di questo green pass in tutte le sue forme strumento che è stato creato da conto e mantenuto da draghi apposta per indurre le persone a vaccinarsi uno strumento politico del decisore politico la lega vorrebbe eliminarlo al 31 di marzo come fratelli d'italia ma per il ministero della salute palazzo chigi non non è il caso di cancellarlo immediatamente perché ovviamente questo green pass lo vogliono tenere in piedi per completare le terze dosi la paura è che cancellandolo poi dicono le persone che vabbè ormai e non si vaccinano più non esiste dice speranza un interruttore che premi e non c'è più il covid vedremo i numeri e decideremo ma un elemento di gradualità lo dobbiamo immaginare sempre speranza annuncia un'ordinanza che rinnoverà l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private mentre per quanto riguarda le mascherine ff p2 l'obbligo agli spettacoli all'aperto non sarà rinnovato si dovrà decidere fino a quando rinnovare l'ordinanza che impone le mascherine per spettacoli al chiuso e in teatri cinema locali intrattenimento musicale dal vivo e non per gli eventi le competizioni sportive che si svolgono poi al chiuso per quanto riguarda ristoranti bar e similari il l'obbligo del green pass per mangiare all'aperto non sarà rinnovato il governo dovrà decidere se firmare un nuovo decreto per rinnovare il green pass per la ristorazione al chiuso oppure come vorrebbe l'ala aperturista della maggioranza limitarsi a chiedere di mantenere la mascherina indossata quando ci si alza dal tavolo per quanto riguarda la quarantena dopo aver eliminato il tampone per chi arriva dai paesi dell'unione europea il governo vuole rendere più agevoli gli ingressi per chi proviene dagli altri stati a meno che non ci siano condizioni pandemiche gravi nei paesi di provenienza le ordinanze della salute che impongono la quarantena e il test non saranno rinnovate poi abbiamo gli alberghi il 31 di marzo scade l'obbligo di esibire il green pass rafforzato non solo alberghi ma anche fiere centri congressi sagre il governo è orientato ad eliminarlo per favorire l'arrivo di turisti stranieri che altrimenti sceglierebbero di andare in vacanze in altri paesi come dicevo io spesso l'italia che prevale e l'idea anche che prevale far cadere la certificazione verde per per gradi nel mese di aprile fissando le date a seconda della curva pandemica è anche possibile che per eventi affollati si decisa di imporre il tampone per quanto riguarda palestre e piscine all'aperto l'obbligo del certificato verde decade il 31 di marzo mentre per chi fa sport al chiuso dovrebbe rimanere dovrebbe rimanere appunto per qualche settimana in più gli stadi dovrebbero tornare alla capienza del 100 per cento appunto dopo il 31 di marzo per i trasporti scade anche l'obbligo del green pass sui mezzi di tutti i tipi e questo per favorire sempre il turismo il stato tecnico scientifico si conclude il 31 di marzo e l'eliminazione invece del sistema colore in italia non è scontata però ormai questo sistema non serve assolutamente a nulla dovrebbe rimanere magari solo la zona rossa per intervenire in caso di focolai magari dopo l'estate grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata grazie a tutti se volete tra una ventina di minuti ci sarà disponibile un altro video qui sul canale grazie e buona giornata